Salve ragazzi, benvenuti alle lezioni di matematica del vostro amico GINGER! Impareremo insieme le tabelline delle moltiplicazioni! E adesso cominciamo con la tabellina del 5! Siete pronti? Via! 5 per 1 5 5 per 2 10 5 per 3 15 5 per 4 20 5 per 5 25 5 per 6 30 5 per 7 35 5 per 8 40 5 per 9 45 5 per 10 50 60 60 Se avete fatto troppi errori, ripetiamo la tabellina del... 5 Altrimenti vi aspetto alla tabellina del... 6 Ciao dal vostro amico GINGER! 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12